Ciao ragazzi, io sono Nico Dine e sono ritornato con un nuovo video Incontri principali, abbiamo l'AIDS United vs Manchester United Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella per stare sempre aggiornato con i miei video Detto questo, vamolos Allora, 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 questa è la mia proposta per la squadra di oggi La potete fare anche voi tranquillamente Perché stiamo a 100% di intesa, valutazione buona Buona, 80%, quello che ci stanno chiedendo E niente ragazzi Se li volete usare questi giocatori, li potete usare Ok, andiamo a ritirare il pacchetto Non li apriamo perché mettiamo qualche cosa da parte Però, a quanto più presto possibile, andiamo ad aprire tutti i pacchi Ragazzi, questo è stato il video di oggi Io vi ringrazio e ci vediamo con un prossimo Ciao, ciao